Il punto più alto di tutta la filosofia di Georg Willen Friedrich Hegel e certamente anche di tutto l'idealismo tedesco è la sua opera più grande e importante del 1817, l'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, di cui oggi parleremo anche se soltanto limitatamente alla terza parte, perché si tratta comunque di un'opera divisa in tre grandi libri e noi concentreremo la nostra attenzione sul terzo, sulla terza opera. Sono comunque tre opere in una che, come in una raccolta, costituiscono l'enciclopedia, un'enciclopedia di scienze filosofiche. Facciamo un breve riassunto dei punti essenziali del pensiero di Hegel per riuscire a capire in che modo quest'opera rappresenti un vero e proprio compimento, un punto di arrivo del percorso filosofico hegeliano. Abbiamo detto che i cardini della filosofia di Hegel sono la razionalità del reale, la risoluzione del finito nell'infinito, ovvero quella concezione secondo cui la verità è l'intero e non il parziale o l'astratto, e la funzione della filosofia, su cui torneremo perché sarà il punto d'arrivo poi del percorso di Hegel, come nottola di Minerva, ovvero come quel procedimento razionale anch'esso attraverso il quale si può dispiegare il mondo, la realtà, la concezione dell'essere e del mondo per Hegel. Abbiamo detto che la realtà per gli idealisti e quindi per Hegel non è un dato ma è un processo dinamico, un processo in divenire che si fa nella storia, che si realizza, che si manifesta all'uomo e che quindi diventa poi conoscenza e sapere assoluto attraverso un percorso che è interpretabile, suddivisibile, sottoposto alla legge della dialettica. Quindi teniamo sempre presente il concetto di dialettica, ovvero tesi, antitesi e sintesi, per interpretare la realtà e quindi per portare avanti questo percorso che dal finito arriva all'assoluto, all'infinito. Abbiamo visto come nella sua prima opera Hegel descriva la risoluzione del finito nell'infinito in maniera storica, l'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, a dieci anni di distanza, descrive questo processo in maniera sistematica. E se noi diciamo che Hegel è un filosofo sistematico è proprio perché in quest'opera appare il suo sistema di pensiero. Quindi abbiamo detto del discorso dialettico, dei tre momenti dialettici, che sono sempre l'affermazione, la negazione, nella riaffermazione, ricordiamo sempre il concetto di aufebung, conservazione e superamento, ed è proprio la suddivisione in tre che è il punto di partenza del nostro percorso di oggi. Perché? Perché appunto le tre opere in una di cui oggi dobbiamo parlare sono appunto la scienza della logica, la filosofia della natura e soprattutto la filosofia dello spirito. L'abbiamo già detto in sede di introduzione al pensiero di Hegel, quindi avevamo già detto che i tre momenti in cui si suddivide l'opera, cioè le tre opere, la scienza della logica, la filosofia della natura e la filosofia dello spirito, rappresentano i tre momenti di sviluppo dell'idea. Nel caso della logica l'idea in sé, pensiero puro, nel caso di filosofia della natura è l'idea fuori di sé, e quindi diciamo il mondo fisico. Infine, il terzo momento su cui ci concentreremo è l'idea che ritorna in sé nell'uomo, e quindi l'idea che assume coscienza o consapevolezza di sé e che diventa spirito, geist. Quindi quello di cui dobbiamo parlare è lo spirito. Questo schema ci riassume molto brevemente l'opera totale di Hegel, la logica, la filosofia della natura e la filosofia dello spirito. Come vediamo, ognuna di queste tre opere è suddivisa a sua volta in varie parti. La logica, chiaramente dottrina dell'essere, dell'essenza e del concetto. La filosofia della natura meccanica, fisica e organica. Tra poco vedremo una mappa concettuale che ripropone la suddivisione delle prime due opere, ma soprattutto quello che ci interessa, e lo vediamo subito, è la filosofia dello spirito. Osserviamo intanto una schematizzazione iniziale per avere un'idea totale del discorso che interessa a noi. La filosofia dello spirito è suddivisa nei tre momenti dialettici, appunto, dello spirito soggettivo, oggettivo e assoluto. Ma, come è ovvio che sia, ognuno di questi tre momenti è a sua volta diviso in altri tre momenti. Li stiamo vedendo rapidamente ora, li rivedremo più avanti. Antropologia, fenomenologia e psicologia, per quello che riguarda lo spirito soggettivo. Mentre quello che ci interessa, da cui partiremo veramente, è lo spirito oggettivo, come vedremo riguarda, diciamo, le istituzioni sociali, quindi il rapporto dell'individuo con gli altri individui, e che è suddiviso in diritto, moralità ed eticità. E, infine, lo spirito assoluto diviso in arte, religione e filosofia. Ma ci torneremo. Vediamo, appunto, intanto una mappa concettuale sulla logica e la filosofia della natura. Nell'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio si analizza il processo di realizzazione dell'idea o spirito. Vediamo che questa, diciamo, schematizzazione nella parte sinistra è quella che noi abbiamo già visto all'inizio, nell'introduzione della filosofia di Hegel. E questa realizzazione dell'idea si sviluppa attraverso tre momenti dialettici che corrispondono ad altrettanti livelli del sapere filosofico. Quindi il primo livello del sapere filosofico è il momento della tesi, l'idea in sé e per sé, che è oggetto della logica. Il momento dell'antitesi, idea nel suo uscire fuori di sé, filosofia della natura. Il momento della sintesi, l'idea che ritorna in sé, filosofia dello spirito. Quindi si ripetono questi schemi. La logica è la scienza dell'idea pura, la quale si articola in logica dell'essere, dell'essenza e del concetto. Ora questa parte la, diciamo, la riassumeremo, quindi notiamo solamente che nel concetto, che è il punto della sintesi a proposito della logica, noi realizziamo veramente una sintesi di essere ed essenza, quindi reale e razionale. Quindi potremmo dire una sintesi tra ontologia e gnosiologia, cioè tra essere e conoscenza. E quindi quella razionalità del reale, che è uno dei cardini del pensiero egeliano, e la parola concetto, fissiamola fin da ora, perché sarà anche la parola decisiva nel punto di arrivo quando Hegel parlerà dell'assoluto e della filosofia che riesce a esprimere l'assoluto attraverso appunto il concetto. La filosofia della natura, come vediamo, è scienza dell'idea estraniata nell'altro da sé, cioè il mondo fisico, la natura, che ha i caratteri di l'accidentalità, contingenza e finitezza, ed è inferiore a qualsiasi espressione dello spirito. Come avevamo già detto, per Hegel, qualunque livello della natura è sempre inferiore allo spirito, e quindi quello che a noi interessa è appunto la filosofia dello spirito, cioè la terza opera, quella più importante, l'opera che rappresenta il culmine della filosofia hegeliana. Allora, avevamo già detto che lo spirito, il Geist, è diviso in spirito soggettivo, oggettivo e assoluto. Lo spirito soggettivo lo nominiamo semplicemente Subjective Geist, e diciamo soltanto che è diviso, appunto, come avevamo già visto, in antropologia, che è la scienza che studia il soggetto, cioè l'individuo dal punto di vista del comportamento, delle sue caratteristiche individuali, appunto, essenziali. Poi c'è la fenomenologia, che abbiamo già visto come fenomenologia dello spirito, e infine la psicologia. Quindi antropologia, fenomenologia e psicologia sono i tre momenti dialettici in cui Hegel divide lo spirito soggettivo. Ma che cosa significa, appunto, soggettivo? Soggettivo vuol dire lo spirito dell'uomo considerato come essere in sé e per sé, quindi indipendentemente dal rapporto con gli altri uomini. E questo, in qualche modo, lo avevamo già anticipato nella fenomenologia dello spirito, cioè il fatto che lo spirito umano, l'uomo stesso, non è veramente, diciamo, in grado di realizzare la propria pienezza, la propria totalità, e quindi il proprio sapere assoluto, se rimane chiuso in sé, e quindi in una, diciamo, situazione atomistica, individuale, questa considerazione si ripete spesso nel pensiero di Hegel. E quindi lo spirito soggettivo è certamente limitato, tant'è vero che è il primo dei tre momenti dello spirito, è il momento, diciamo, di prima determinazione parziale. Quindi, affinché si realizzi la pienezza, la vera essenza dell'uomo, occorre la realizzazione del rapporto con gli altri, e quindi passare dal primo momento dello spirito soggettivo allo spirito oggettivo. Probabilmente la parte dello spirito oggettivo nella filosofia dello spirito di Hegel è la parte più importante, più significativa di tutta l'opera del filosofo tedesco. Lo spirito oggettivo, obiektiver geist, rappresenta il momento in cui l'uomo è in rapporto con gli altri, e questo rapporto può assumere varie dimensioni, perché comunque può assumere la dimensione più circoscritta dell'ambito privato fino ad arrivare all'ambito pubblico più ampio e più totalizzante del rapporto tra l'uomo e gli altri, e quindi, come vedremo, anche le istituzioni civili, che saranno il momento decisivo dello spirito oggettivo. Ma vediamo nello specifico quali sono i tre momenti dello spirito oggettivo. Dobbiamo anzitutto definire la tesi, l'antitesi e la sintesi dialettica di questo momento dello spirito geist, obiektiver geist. Lo spirito oggettivo è suddiviso, come avevamo visto già nello schema, ma in diritto, moralità ed eticità. Poi capiremo che cosa significa questa parola e, eventualmente, in una prossima lezione svilupperemo pienamente il concetto di eticità. Allora, diritto è la prima determinazione dello spirito oggettivo. Che cosa si intende per diritto? Rect. Diciamo, in tanto, come già leggiamo, è quello che Hegel definisce diritto privato. Ricordiamo che tra le varie opere di Hegel c'è anche lineamenti di filosofia del diritto, quindi Hegel ha dedicato studi molto approfonditi al diritto. Ora, perché il diritto è il primo momento dello spirito oggettivo, dice Hegel? Perché il diritto rappresenta l'insieme di norme, l'insieme di regole che regolano, appunto, che organizzano i rapporti tra le persone. Cioè, gli uomini, nel momento in cui passano dalla dimensione individuale, solitaria, atomistica, isolata, e iniziano a vivere in società, ecco, la vita in società è regolata da rapporti che sono stabiliti dalle leggi. Il diritto sono le leggi, le norme di diritto privato, le norme per le quali ogni uomo deve svolgere una funzione. Diciamo, l'uomo all'interno del diritto privato è una persona giuridica, noi diciamo, quindi una maschera, cioè assume un ruolo nella società. Ora, il diritto, secondo Hegel, nasce dalla volontà libera degli individui, ma, come vedremo, è un insieme di norme che non vengono dall'interno, ma dall'esterno. Come avrebbe detto Kant, per quello che riguarda i primi due momenti dello spirito oggettivo, è decisivo il confronto, il riferimento al grande filosofo del criticismo. perché Kant stesso aveva sostenuto le leggi, le regole, come qualcosa di eteronomo, qualcosa di esterno. Quindi Hegel riprende questo concetto, cioè il diritto è l'insieme di norme che sono norme esterne e a cui l'uomo deve obbedire per la convivenza con gli altri. Ora, come si suddivide il diritto ha detto a sua volta nei tre momenti, perché c'è sempre una suddivisione in tre momenti, che sono il contratto, la violazione e la pena. Quali sono i tre momenti del diritto? I tre momenti del diritto sono, anzitutto, il contratto. Il contratto è un, diciamo, un accordo che viene stipulato fra due uomini, relazione giuridica fra uomini, cioè è un momento, è un primo momento del diritto, quindi stiamo parlando della storia delle civiltà, delle società. Il contratto è il momento in cui due persone si riconoscono a vicenda come soggetti di diritto, quindi il contratto è il riconoscere l'altro come soggetto di diritto, il che vuol dire riconoscere anche se stesso portatore di doveri verso l'altro, cioè il diritto è una dimensione della intersoggettività che, diciamo, implica una serie di diritti ma anche di doveri, questo vuole dire Engel, chiaramente. Quindi, se il contratto rappresenta un accordo fra due persone, nel momento in cui uno dei due si debba trovare a violare la norma e quindi a compiere quello che genericamente Engel chiama delitto, cioè violazione della norma e che è appunto il secondo momento, quello della negazione, se il contratto è l'affermazione, la violazione è la negazione, allora per Engel deve esserci una sintesi, una riaffermazione del contratto, quindi un aufhebung, un superamento della violazione e una conservazione della norma attraverso la pena. Il terzo momento del diritto è la pena. La pena che cos'è secondo Engel? La pena è diciamo la diciamo la la soluzione necessaria affinché venga ripristinato l'ordine giuridico violato, perché? Perché colui che compie la violazione è come se interrompesse il corso razionale dell'essere, della storia. Cioè il contratto è una affermazione di un principio razionale che viene violato nel momento in cui qualcuno contraviene a questa norma. Contravvenire alla norma significa mettere disordine nell'ordine razionale e quindi interrompere il flusso razionale dell'essere, della realtà. E quindi secondo Engel colui che compie questa violazione deve essere punito. Cioè la pena rappresenta non una punizione fine a se stessa ma un diritto posto nel delinquente stesso, viene definito così, colui che viola la pena, che viene onorato come essere razionale. Che vuol dire questo? Vuol dire che colui che compie il reato, chiamiamolo così, il delitto, nel momento in cui esce dall'ordine stabilito violando la norma, perde la sua essenza di essere razionale. Non è più un essere razionale, è irrazionale perché ha violato l'ordine razionale degli eventi e quindi la pena ha lo scopo di ricondurre lo stesso delinquente all'interno della razionalità. e quindi è come essere usciti dalla razionalità del reale, dice Hegel. E quindi la pena permette al reo di poter riacquisire la propria condizione di essere razionale. Ora però, il primo momento dello spirito oggettivo, cioè il diritto, dice Hegel che non soddisfa la natura umana, lo spirito umano non è soddisfatto perché è parziale, cioè in che consiste la parzialità o la strattezza del diritto? Il diritto è qualcosa che viene dal di fuori, è una norma che pur nascendo dalla volontà libera degli individui non è una norma interiore, come avrebbe detto Kant, cioè non è una legge morale che viene da dentro ognuno di noi, ma è una legge eteronoma, esterna, a cui ogni uomo deve obbedire. Quindi il passaggio dal primo momento del diritto al secondo momento della moralità è il passaggio dalla legge esteriore alla legge interiore, perché? Perché la moralità è rappresentata dalla legge morale kantiana, cioè la moralità è la sfera della libertà interiore, è una legge che non viene dall'esterno ma dall'interno, che è legata quindi all'etica dell'intenzione, come ricordiamo in Kant, e dai proponimenti, cioè nella moralità, che non è più una dimensione appunto esteriore ma interiore, l'uomo è soggetto libero e responsabile perché la norma viene dall'interno, tuttavia anche nella moralità noi abbiamo un qualcosa che manca, cioè che non porta ad una totalità, a una completezza. Ricordiamo sempre la dialettica, tesi, antitesi e sintesi. se il diritto è esteriorità, la moralità è interiorità, occorre trovare una sintesi tra esteriorità e interiorità, perché? Perché nel momento in cui la legge morale è solo interiore, dice Hegel, è limitata perché c'è una separazione che non si riesce a colmare tra il soggetto, quindi l'essere, e il bene da realizzare, cioè il dover essere, cioè una separazione tra essere e dover essere. Perché? Perché il bene da realizzare è esterno alla soggettività, cioè mentre la legge viene da dentro, il bene poi da realizzare è esterno e quindi la moralità si limita alla dimensione interiore e non realizza quella esteriore. La moralità perfetta è quella di Kant, ma noi abbiamo appunto il contrasto in Kant tra l'imperativo categorico e il sommo bene. Se ricordate, anche nella critica della ragion pratica avevamo detto che la legge morale porta alla virtù, ma la virtù non porta al sommo bene, cioè all'unione con la felicità, perché si crea una separazione tra l'essere e il dover essere. Nel momento in cui io realizzo il dover essere rinuncio all'essere, cioè a me stesso, nel momento in cui io realizzo l'esteriorità non ho realizzato l'interiorità. Quindi con la moralità c'è ancora una impossibilità di realizzare l'esteriorità del diritto. Questo vuol dire che tra diritto e moralità occorre una sintesi, un terzo momento dialettico e il terzo momento dialettico fra diritto e moralità è l'eticità. Questa parola che era già stata anticipata al termine della fenomenologia dello spirito, questo termine diciamo che non esiste in italiano, la parola eticità, è una parola che viene dall'ethos. L'ethos che cos'è? L'ethos è il costume di un popolo, è diciamo il costume inteso come usi e costumi, come abitudini e la parola eticità è la traduzione italiana di quella parola chiave usata da Hegel che è la parola Zitlischkeit. La parola Zitlischkeit viene da Zitten che è appunto ethos, costume di un popolo e rappresenta come vediamo subito la sintesi tra il diritto astratto cioè la norma esteriore e la moralità cioè la norma soggettiva. Ora abbiamo già svelato in qualche modo il significato della sintesi che è nell'eticità ovvero nel momento in cui noi ci troviamo nel diritto abbiamo una norma esteriore astratta che non che non coinvolge l'interiorità nel momento in cui noi abbiamo la moralità abbiamo il contrario cioè una norma soggettiva che però ci porta come dire a restare chiusi nella nostra individualità e allora dice Hegel il vero spirito oggettivo obiettivo ergeist si realizza non nella dimensione individuale personale atomistica ma si realizza nelle istituzioni civili questa è l'eticità l'eticità è lo spirito che si realizza nelle istituzioni civili cioè nel momento in cui l'uomo che come avrebbe detto Aristotele è animale sociale realizza il proprio spirito soltanto nella società e allora l'eticità ci racconta quello che è lo sviluppo della società cioè lo sviluppo dialettico a sua volta diviso nei tre momenti più importanti che sono appunto la famiglia la società civile e lo stato vediamoli adesso nello specifico acceneremo solo alla famiglia mentre la prossima volta completeremo il discorso sulla società civile e lo stato allora abbiamo detto che l'eticità zitlichkeit è l'ethos di un popolo cioè il complesso di doveri del singolo verso la comunità vedete il rapporto tra individuo e totalità finito e infinito la realizzazione del bene che è suddiviso a sua volta in famiglia famiglie società civile burgerliche gesellschaft e stato stat che è il momento più alto dell'eticità e chiaramente che è il momento conclusivo dello spirito oggettivo partiamo dalla famiglia ora nel descrivere questi tre momenti dell'eticità dal momento che abbiamo detto che è diciamo la descrizione dello spirito umano nelle istituzioni civili potremmo quasi fare riferimento alla vita di un uomo dal momento in cui nasce fino al momento in cui non arriva all'età adulta che cosa fa quest'uomo inizialmente vive nella dimensione della famiglia è il primo momento poi una volta uscito della famiglia entra nel mondo del lavoro e quindi come vedremo la società civile molto legata diciamo all'attività produttiva all'attività economica che è il momento in cui c'è la realizzazione più collettiva dell'individuo rispetto alla priva diciamo la dimensione privata della della famiglia ma poi c'è lo stato il momento in cui l'uomo è cittadino e allora si realizza totalmente il discorso dello spirito oggettivo la famiglia è appunto il primo momento dell'eticità in cui Hegel dice l'uomo si trova nell'istituzione naturale per lui la famiglia è un'istituzione naturale che per natura l'uomo è portato a realizzare e immediata che a sua volta è diviso in tre momenti matrimonio patrimonio ed educazione dei figli quindi i tre momenti rappresentano tre tappe successive di quello che è il percorso della famiglia la famiglia però appunto è il momento in cui l'uomo vive in una dimensione privata come abbiamo detto e questo è ancora una volta un primo momento dialetticamente diciamo determinato e parziale perché perché rispetto alla dimensione privata e quindi più concentrata della famiglia lo spirito dell'uomo poi è necessario che passi a un rapporto con gli altri cioè la società civile quella che Hegel chiama Burgerliche Gesellschaft è il momento in cui l'uomo si trova in relazione agli altri individui nel cosiddetto mondo chiamiamolo nella sfera economico sociale e giuridico amministrativa questi sono i termini più corretti potremmo dire banalmente nel mondo del lavoro e dei rapporti giuridici e amministrativi ora gli appunti ci sottolineano subito come la società civile che sono il momento diciamo il secondo momento dialettico rispetto alla famiglia è uno spazio intermedio tra individuo e stato perché nella famiglia l'uomo è solo individuo nello stato l'uomo poi diventerà appunto una diciamo una parte di una totalità civile che è lo stato lo stato è qualcosa di totale la società civile è quella che noi oggi chiamiamo società gesellschaft proprio il termine tedesco per intendere la società che è appunto quella dimensione in cui l'uomo è in rapporto agli altri nel processo produttivo economico sociale e anche giuridico amministrativo quindi la società civile è caratterizzata da un insieme di norme e di associazioni che fungono da collegamento fra individuo e collettività come vediamo adesso soltanto questa frase poi riprenderemo il discorso la prossima volta lo scopo della società è della società civile assicurare il benessere favorire la produzione e amministrare la giustizia quindi l'armonia sociale ora per oggi concludiamo il nostro discorso sulla filosofia dello spirito fermando la nostra attenzione sul discorso della società civile come secondo dei tre momenti dell'eticità che a sua volta è il terzo momento decisivo dello spirito oggettivo la prossima volta concluderemo questo spirito oggettivo quindi il discorso sull'eticità per poi concludere il discorso sulla filosofia di Hegel e sullo spirito assoluto è importante direttamente di Hegel di Hegel di Hegel